rissa in parlamento iezi sospeso per 15 giorni e donno per quattro un alterco in parlamento italiano ha suscitato grande scalpore il 14 giugno durante un acceso dibattito nella camera dei deputati è scoppiata una lite fisica che ha fatto notizie in tutto il paese e ha portato infine a sospensioni disciplinari i protagonisti di questo scandalo sono stati i deputati riccardo iezi e leonardo donno la seduta parlamentare inizialmente riguardava una proposta di modifica legislativa oggetto di intensi dibattiti tra i deputati in mezzo a questo dibattito le acque si scaldarono così tanto che scoppiò una discussione che alla fine incluse violenza fisica il presidente della camera dei deputati roberto calderoli cercò più volte di ripristinare l'ordine ma senza successo secondo testimoni oculari l'incidente è iniziato quando riccardo iezi e leonardo donno si sono trovati coinvolti in uno scontro verbale domenico furgiuele anche egli deputato ha cercato inizialmente di mediare ma è stato coinvolto nella controversia in particolare le provocazioni di iezi basate su attacchi personali che visibilmente irritavano donno hanno contribuito all'escalation la zuffa ha raggiunto il culmine quando iezi e donno sono andati l'uno contro l'altro e hanno temporaneamente perso il controllo i deputati presenti si sono prontamente mobilitati per separare i due litiganti e calmare la situazione va notato che l'episodio è avvenuto davanti alle telecamere e ha suscitato reazioni immediate sui social media e sulla stampa pubblica in poche ore vari siti di notizie italiani hanno pubblicato video e immagini della lite la reazione immediata da parte della leadership parlamentare non si è fatta attendere iezi è stato sospeso dalle attività parlamentari per 15 giorni e donno per quattro giorni questa decisione dovrebbe servire come segnale chiaro che tale comportamento è inaccettabile nel parlamento italiano durante la sospensione i deputati interessati non possono partecipare alle sedute né svolgere i propri doveri politici questo incidente ha suscitato diverse reazioni politiche alcuni deputati hanno argomentato che tali conflitti danneggiano la fiducia dei cittadini nei loro rappresentanti e hanno chiesto un'attuazione più rigorosa delle regole comportamentali altri invece hanno visto l'escalation come sintomo di tensioni politiche e sociali più profonde nel paese il presidente del parlamento calderoli ha annunciato di adottare in futuro misure più severe per prevenire incidenti simili la nostra democrazia si basa su discussioni ma queste devono essere condotte sempre in modo rispettoso e costruttivo ha commentato calderoli dopo l'incidente inoltre l'incidente ricorda i passati scandali alla camera dei deputati incidenti simili hanno sempre destato scalpore e mettono in luce la necessità di riforme nel modo in cui i rappresentanti del popolo gestiscono e comunicano tra loro anche domenico furgiuhele è stato precedentemente coinvolto in controversie tra cui i suoi legami con l'organizzazione di estrema destra decima mass la recente rissa rimarrà quindi nella memoria non solo perché ha temporaneamente gettato il caos nella vita politica quotidiana ma anche perché potrebbe essere un segno di problemi più profondi nel sistema politico italiano la fiducia il rispetto tra i membri del parlamento sono elementi essenziali di qualsiasi democrazia funzionante l'evento non deve quindi essere considerato isolatamente ma deve essere visto nel contesto di altri incidenti e della cultura politica generale sostenitori di una riforma del funzionamento del parlamento si sono ora fatti sentire sempre più spesso argumentano che sia indispensabile una chiara definizione e sanzione delle violazioni delle regole comportamentali resta da vedere quale sarà l'impatto a lungo termine di questo evento sulla politica italiana e se potrà fungere da catalizzatore per cambiamenti positivi l'incidente mostra che i democratici devono essere sempre ricordati dei mezzi estremi a cui si può arrivare quando si perde il rispetto reciproco e la razionalità nel dibattito politico gli attori coinvolti dovrebbero prendere il momento dell'escalation e le sue conseguenze come avvertimento affinché un tale incidente non si ripeta autore anita fache data venerdì 14 giugno 24